Il numero non è soddisfacente, soprattutto della vaccinazione del Covid, un po' meglio sta andando l'influenza, però il Covid siamo a numeri ancora molto bassi e quindi l'invito è rivolto a tutti, a tutta la popolazione dai sei mesi in poi per fare questo vaccino, perché è importante tutelare la propria salute e tutelare anche quella delle persone che ci stanno vicino, che sono più fragili, più soggette a complicanze. È in pieno svolgimento la campagna vaccinale contro l'influenza stagionale e contro il Covid, mentre per l'influenza si stanno raggiungendo percentuali soddisfacenti, ma ancora non quelle auspicate. La vaccinazione contro il Covid invece ancora ha percentuali molto basse, di contro però stanno aumentando i ricoveri. Normalmente chi si ricovera sono persone anziane, persone fragili, che hanno patologie, concomitanti, questa è la popolazione più a rischio di sviluppare forme gravi, forme complicate. Però giustamente, come diceva lei, il dato preoccupante è che i ricoveri stanno crescendo numericamente. Qual è l'appello che viene fatto? Quali sono le informazioni che vi preme diffondere? Perché ovviamente anche in questo senso, forse ancora ci sono un po' di resistenze nel fare il vaccino Covid e influenza. Il vaccino è quello che attualmente stiamo facendo, è un vaccino nuovo per le nuove varianti che stanno circolando adesso, quindi è importantissimo farlo. Si può fare insieme, contemporaneamente, in tutta sicurezza con il vaccino anti-influenzale o a qualunque distanza da questo, indipendentemente dal numero delle dosi già ricevute prima, basta che siano passati sei mesi dall'ultima dose oppure da una precedente infezione. Come si può chiedere di fare questo vaccino? Come si può anche prenotare? I vaccini possono essere fatti dal proprio medico curante, dal proprio pediatra di libera scelta, nelle farmacie che aderiscono alla campagna vaccinale se si ha più di 60 anni, oppure nei nostri centri aziendali dove si può prenotare sul portale prenotavaccino.sanita.toscana.it. Ovviamente c'è da ricordare che non c'è obbligo, però ecco, come lei giustamente ricordava, chi ha comunque una persona fragile nei suoi contatti, ecco, anche familiari, anche se non è un operatore sanitario piuttosto che di un RSA, è comunque consigliabile. Sì, assolutamente. È un dovere morale, diciamo, anche una convivenza civile, quello di vaccinarsi per proteggere gli altri, per bloccare la circolazione virale e quindi tutelare la collettività.